Ho l'onore di leggere il saluto che la Presidentessa del Senato, l'On. Alberti Casellati, ha inviato al magnifico Rettore. Gentili professore, la ringrazio per l'invito alla giornata di celebrazione in occasione del centenario della morte del senatore Augusto Righi. Purtroppo impegni istituzionali e pregressi non mi consentono di partecipare a questo importante evento. Desidero inviare a lei, ai suoi collaboratori e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa rilevante iniziativa il mio sincero apprezzamento. Con i miei più cordiali saluti, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Accedo ora alla parola al magnifico Rettore, Francesco Verdini. Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno ai colleghi e alle colleghe del Dipartimento di Fisica e Astronomia e buongiorno alla famiglia di Augusto Righi che avevo incontrato prima. Complimenti per aver organizzato questo incontro con il quale oggi l'Alma Mater celebra Augusto Righi, uno dei più eminenti scienziati del suo tempo e fra i professori più significativi della storia moderna di questo Ateneo. Per ricordare la personalità di Righi, la sua posizione nella storia della scienza e nella storia delle istituzioni, sono state pensate alcune relazioni di esperti e studiosi che ascolteremo con grande attenzione. Ma prima di lasciare spazio alle parole dei colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione sulle testimonianze materiali che Righi ha lasciato e che oggi costituiscono un bene culturale importante per tutto l'Ateneo. Sono memorie concrete che ci riportano allo studioso ma anche alla sua inarrestabile curiosità di sperimentatore. Mi riferisco alle strumentazioni scientifiche progettate, costruite e poi lasciate in eredità da Righi che oggi costituiscono la collezione di fisica del Sistema Museale di Ateneo, esposta al piano superiore di questo stabile che visiteremo più tardi. Io ho avuto l'anteprima poco fa e devo dire che sono davvero meravigliose. Tali apparati per lo studio delle onde elettromagnetiche documentano un'attività scientifica di impressionante vastità che raggiunse l'assoluta notorietà internazionale e che posero le basi per gli straordinari sviluppi tecnologici messi in atto da Guglielmo Marconi. Diciamo nella visita che ho fatto poc'anzi insieme al direttore Nicola Semprini che ringrazio, che è stato il motore dell'iniziativa di oggi, ne ha sottolineato come da una parte della porta ci fosse il primo Righi e dall'altra parte della porta il secondo Righi che si era messo completamente in gioco a 50 anni e questo diciamo è un'altra testimonianza davvero straordinaria. Ma oltre agli oggetti scientifici Righi lascia un'altra testimonianza materiale alle generazioni successive e mi riferisco a questo stesso edificio. Righi infatti non fu solo un fisico ingegnere, se mi permettete, questo accoppiamento, nell'ambito delle sue ricerche ma lo fu anche nella progettazione delle infrastrutture che avrebbero permesso la coltivazione e lo sviluppo della propria disciplina nel futuro. Questo edificio infatti venne inaugurato il 12 aprile del 1907 da Righi stesso con una lezione dal titolo sulla costituzione elettrica della materia tenuta proprio in quest'aula. La costruzione dell'Istituto di Fisica fece parte di un'intensa attività edilizia intrapresa dall'Università di Bologna nel suo ottavo centenario che trasformò radicalmente alcuni dei quartieri interni alle antiche mura. Oggi essi costituiscono il secondo cuore dell'Università accanto alla zona della cittadella di Via Zamboni. Oltre all'Istituto di Fisica mi riferisco alla gemmazione di sedi tra le quali anatomia, mineralogia, geologia e paleontologia, agraria, oggi in altra sede, a poche centinaia di metri da noi. L'adeguamento infrastrutturale era la materializzazione di un aggiornamento intellettuale che aveva portato la vecchia e sonnolenta Università Pontificia in relazione con i centri della cultura scientifica europea. Se lo studio di Bologna con cui era venuto a contatto il giovane Carducci dopo l'unità era ancora piccolo, sostanzialmente concentrato nelle sale di Palazzo Poggi, quello di Righi comprendeva già un quadrante importante della città ruotante intorno al perno di Porta San Donato e soprattutto stava investendo, come mai aveva fatto prima, in ricerca. Laboratori, strumenti, aule didattiche, una fioritura rinverdita a più riprese durante tutto il XX secolo e che anche oggi continua a rinnovarsi. Il nuovo Dipartimento di Fisica e Astronomia, nato dieci anni fa dall'Unione del Dipartimento di Fisica, diretto discendente dell'Istituto inaugurato da Augusto Righi e dal Dipartimento di Astronomia, appartenente ad una tradizione di studi che risalgono agli inizi dello studium bolognese e che ebbero la loro storica sede nella Torre della Specola, vuole oggi onorare la memoria del grande scienziato assumendone il nome. E questo io, diciamo, ho apprezzato moltissimo questa proposta che arriva dal Dipartimento e che è stata già approvata dagli organi. anche alla luce del momento che vive il Dipartimento e che è un'altra fioritura. Oggi il Dipartimento è, possiamo dire, baricentro di un sistema articolato di ricerca fortemente integrato con gli altri enti di ricerca che operano sul territorio, seguendo un disegno che è stato pianificato sulla base di positive esperienze storiche, già con l'INFN e l'INAF, e portato ormai a compimento, fortemente voluto dal Dipartimento. E quindi in questa altra fioritura del Dipartimento aver pensato all'intitolazione, secondo me è stato, diciamo, un gesto che io personalmente e gli organi hanno molto apprezzato in un sforzo di proiezione in avanti verso il futuro un forte ancoraggio alle nostre tradizioni. Dicevo, questo nuovo Dipartimento è intriso ancora oggi delle memorie con cui stiamo per onorare il nome di Righi. Non c'è modo migliore per farlo di tornare ad ascoltare le sue parole, cercare di capirle nel nostro presente, porci in ascolto di quanto lui stesso ha compiuto in un cammino esemplare di uomo, di studioso e di cittadino. Auguro a tutti voi una giornata di profondo coinvolgimento intellettuale nel mondo di Righi e mi congratulo con tutti coloro che hanno contribuito a questa importante celebrazione. Grazie. Augusto Righi, come sentirete e ascolterete durante il ricordo del professor Bertotti è stato uno dei fondatori della Società Italiana di Fisica che oggi è rappresentata dalla professoressa Angela Bracco a cui cedo volentieri la parola. Grazie e buongiorno a tutti, autorità, rettore, colleghi. È veramente un piacere per me essere qui e aver ricevuto questo invito e dire qualche parole per darvi un saluto da parte della Società Italiana di Fisica. Qui chiaramente, nel mio breve intervento non potrò parlare di quanto la figura di Righi sia stata geniale e prolifica la sua ricerca che ha portato a importanti scoperte ma mi limiterò a fare, a menzionare solo alcune cose che hanno dei collegamenti con la nostra società. Innanzitutto voglio ricordare come appena stato detto che Augusto Righi è stato il cofondatore della Società Italiana di Fisica nel 1897. È stato poi vicepresidente negli anni 1899-1900 e poi presidente 901-902-910 per finire negli ultimi anni della sua vita nel 19 e nel 20. Durante la sua presidenza nel 1901 organizzò a Bologna la Quinta Assemblea Generale della Società Italiana di Fisica che si tenne tra il 24 e il 26 settembre. Voglio sottolineare che ancora oggi i congressi annuali della Società Italiana di Fisica si tengono durante lo stesso periodo dell'anno. inoltre in quell'assemblea si instaurò la tradizione di aggiungere alle sedute per le relazioni e comunicazioni scientifiche anche altri eventi di interesse. Infatti ci fu organizzata una visita alla moderna centrale elettrica di Battiferro che si trova nella periferia di Bologna e tutto questo apparve fu riportato in un articolo sul resto del Carlino. Per quanto riguarda le pubblicazioni e le attività editoriali come potete immaginare ci sono molti articoli di quegli anni che riportano la ricerca di Righi e anche in particolare quello sull'effetto fotoelettrico. Nel 2017 per quanto riguarda le pubblicazioni più recenti voglio menzionare che è apparso un numero dei quaderni di storia della fisica un articolo scritto da Giorgio Dragoni intitolato Augusto Righi fisico-matematico una rilettura biografica. Questo articolo ricostruisce l'affascinante ricerca di Righi dando alcuni dettagli che sono basati su appunti personali e lì il rapporto con Guglielmo Marconi è ben descritto facendo vedere come gli strumenti e i risultati ottenuti da Righi siano stati un punto di partenza essenziali per la formazione e le scoperte di Guglielmo Marconi. E infatti riportiamo in questo articolo che Righi scrive in un manoscritto autografo una confessione inedita che cito sta di fatto che l'idea della telegrafia senza filo gli venne dopo che gli mostrai e fece comprendere le mie esperienze sulle onde elettriche. In ogni caso sia Marconi che Thomson lo hanno ricordato nelle loro lecture in occasione dei conferimenti dei premi Nobel e hanno sottolineato quanto sia stata centrale la ricerca di Righi per le loro scoperte. Nel 2019 è stato pubblicato poi sempre dalla SIF e voluto dalla professoressa Ciffarelli sia come presidente della SIF che presidente del centro Fermi il libro I fisici senatori scritto da Matteo Leone e Nadia Robotti di cui ci parlerà in seguito e questo è stato anche presentato alla biblioteca del Senato e lì emerge bene come Righi abbia svolto in modo diciamo con altissimo livello anche i ruoli istituzionali. Era stato scelto nel 1905 come senatore perché aveva dato lustro al paese e per portare nelle istituzioni tutte quelle competenze e saperi di cui il paese aveva bisogno per progredire. E per ultima cosa voglio dire che per la SIF è stato un grande piacere ricevere l'invito per patrocinare un libro scritto da Liana Righi e Federico Spinozzi Augusto Righi Catturare l'invisibile e anticipare il futuro. Questo libro ci parla di aspetti della vita personale più che degli scritti e ci fa vedere come un ragazzo normale che ha seguito i suoi interessi con grande passione e grande determinazione è arrivato a importanti scoperte che ha vissuto con la vera umiltà di uno studioso. Quindi questo libro è unico nel senso che fa rivivere molta della quotidianità di questo scienziato. la SIF continua a onorare questa importante figura anche nel prossimo numero del nuovo saggiatore in cui apparirà un articolo di Eugenio Bertozzi che chiaramente invito a leggere. Quindi per concludere voglio ringraziare ancora per questo gentile invito è un onore per me essere stata presente a celebrare questo grande scienziato che ci lascia veramente un'importante e ricchissima eredità di cui siamo molto orgogliosi. Grazie. Introduce la giornata il professor Nicola Semprini Cesari direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Magnifico Rettore Autorità colleghe e colleghi presenti in aula e in remoto poiché tanti oggi sono collegati in remoto ci siamo a lungo domandati quale potesse essere il modo migliore per presentare la figura eminente di Augusto Righi una figura complessa difficile da circoscrivere Augusto Righi è stato uno dei più importanti fisici che il nostro paese abbia avuto professore in questa università dal 1889 al 1920 che è poi l'anno della sua scomparsa è stato direttore come il rettore ha poco fa ricordato di questo istituto che ha inaugurato nel 1907 aveva conseguito una fama internazionale attestata da 15 nominazioni consecutive al premio Nobel dall'anno 1905 all'anno della sua morte un grande della fisica del tempo Thompson J.J. Thompson un nome leggendario per i fisici ricordava Righi come una guida spirituale della rinascita scientifica dell'Italia singolare ma decisiva è la posizione storica della sua attività scientifica che si estende proprio simbolicamente tra gli ultimi vent'anni dell'Ottocento e i primi vent'anni del Novecento in quella che per la fisica è stata un'epoca di radicali trasformazioni e si è passati si è abbandonato il diciamo il panorama della fisica classica e si è aperto quello invece della fisica moderna che nel giro di due decenni approderà alla meccanica quantistica e alle due teorie della relatività Righi e questo riesce solo i più grandi è stato capace di dare contributi significativi nei due fronti di questa rivoluzione e questo è un fatto davvero eccezionale infatti acquisì una fama internazionale con i suoi studi sulle onde elettromagnetiche dimostrando in modo definitivo la natura della luce e simbolicamente chiuse questo fu l'ultimo capitolo della fisica dell'ottocento e come il rettore ha ricordato non esitò alla bella età di 50 anni il professore ha affermato in tutto il mondo ad abbandonare tutto e gettarsi una nuova avventura scientifica e affrontò la fisica atomica che era una novità assoluta ed ebbe la capacità di portare anche lì importantissimi contributi ci sono contributi poco valorizzati suoi sull'effetto fotoelettrico e importanti invece molto riconosciuti alcuni di questi furono tra l'altro diciamo così una delle motivazioni per cui fu proposto poi il Nobel tante volte sulla fisica atomica sull'effetto Siemen e la morte lo coglierà nel 1920 e mentre stava pensando ad un esperimento per verificare la teoria dell'attività ristretta che era stata formulata una quindicina di anni prima e poi c'è la vastità degli interessi di Augusto Righi che tendevano a portarlo ai limiti della sua disciplina e spesso anche oltre questi limiti Righi era intanto un grandissimo sperimentatore come fisico geniale tuttavia amava spingersi verso le applicazioni concrete ciò che oggi chiameremmo trasferimento tecnologico quindi da questo punto di vista è una figura moderna brevettò ad esempio una particolare versione del telefono e poi lo sappiamo tutti già stato ricordato introdusse le tecnologie che renderanno possibile le grandi applicazioni e le grandi scoperte di Guglielmo Marconi Righi fu anche un lucido intellettuale la moderna teoria dei fenomeni fisici è un testo che è stato letto in tutta Europa tradotto in più lingue è un testo che come dirà poi Benedetto Croce tendeva la mano alla filosofia Lenin lo citerà più volte fu infine un importante uomo pubblico delle istituzioni dopo aver ricoperto alcuni incarichi politici a livello locale fu nominato alla fine del secondo alla fine del secondo guerrano Giolitti senatore e portò al paese importanti importanti iniziative verranno citate sicuramente nel corso della tavola rotonda dunque possiamo dire che Righi è nel senso buono del termine un uomo del suo tempo e in qualche modo porta dentro di sé le contraddizioni se volete anche e la complessità di un'epoca che fu di radicali trasformazioni non solo nel campo della fisica come ricordato ma anche nel campo delle arti nel campo della politica nel campo sociale e per cogliere questa complessità abbiamo pensato una formula diversa ci sarà una prima relazione generale sulla figura di Augusto Righi un ritratto tutto tondo tenuta dal dottor Bertozzi che è un ricercatore del nostro dipartimento e del sistema museale di Ateneo poi seguirà una tavola rotonda coordinata dal direttore delle scienze Marco Cattaneo ma presenterò i colleghi che parteciperanno a una tavola rotonda dopo perché vorrei che li vedeste e li conosceste mentre ora sono seduti nel pubblico quindi io lascio immediatamente la parola al collega Eugenio Bertozzi grazie per l'attenzione buongiorno pochi giorni dopo la scomparsa di Augusto Righi avvenuta l'8 giugno 1920 a Bologna il giovane collega Orso Mario Corbino ricordava presso l'Accademia dei Lincei durante la commemorazione che Righi era stato il fisico più eminente che l'Italia avesse avuto dall'epoca di Alessandro Volta qualche settimana dopo il premio Nobel per la fisica JJ Thompson scopritore della famosa particella nota come elettrone ricordava che il professor Righi ha dato un grande contributo alla nostra comprensione delle onde elettromagnetiche e del passaggio di elettricità attraverso i gas egli fu una delle guide spirituali della rinascita della ricerca scientifica in Italia evento di eccezionale rilevanza nella recente storia del paese Righi fu quindi uno sperimentale di grande creatività un docente universitario un senatore del regno d'Italia ma anche un filosofo della scienza e un grande divulgatore scientifico la mostra che inaugura oggi al piano di sopra assume questa prospettiva data da Thompson come idea allestitiva ovvero come ricordava il rettore nelle due ali del corridoio a sinistra e destra dell'ingresso della biblioteca si evidenziano i contributi di Righi all'elettromagnetismo e alla struttura della materia nella mostra incontriamo Righi 28enne se riesco a ecco incontriamo Righi nel 1878 28enne quando è docente di fisica presso l'istituto tecnico della città nella cattedra che era del suo maestro Antonio Pacinotti e lo troviamo impegnato nella principale applicazione tecnologica di fine ottocento ovvero la comunicazione elettrica con e poi senza fili nell'aprile del 1878 poco dopo l'introduzione in Italia del primo telefono di tipo Bell Righi trasforma introduce il telefono che si ascolta a distanza un apparato nel quale la comunicazione tra due sole persone veniva estesa a due gruppi di modo da poter trasmettere conferenze o concerti musicali ad esempio per questo Righi trasforma il ricevitore di Bell in alto parlante ed introduce il primo microfono a polveri conduttrici tra l'altro questo sarà il primo e unico brevetto chiesto da Righi l'apparato verrà presentato all'esposizione nazionale di Parigi e ne verrà data dimostrazione durante la visita di Re Umberto I a Bologna il 5 novembre 1878 durante un pranzo offerto ai reali dalla cittadinanza la carriera universitaria di Righi comincia invece nel 1888 all'università di Palermo come docente di fisica sperimentale presso la scuola per ingegneri dove avrà come allievo orso Mario Corbino e a questa nomina faranno gioco tutta una serie di studi che Righi aveva già compiuto sull'elettrostatica in particolare l'introduzione di un generatore elettrostatico di piccole dimensioni che aveva la caratteristica di far passare la cinghia che trasportava le cariche attraverso una sfera cava caratteristica che viene citata e ripresa da Robert van der Graaf quando introdurrà nel 1933 il generatore omonimo sin dall'inizio è chiara anche l'attenzione di Righi agli studi sulla struttura della materia e anche si vede molto bene la sua metodologia di ricerca che consisteva nel riprendere esperimenti fatti da altri nel rivederli e nel tirare fuori nuova conoscenza cosa che lo portava in contatto con le più importanti personalità del proprio tempo come è per il caso di William Crookes Crookes aveva mostrato che tubi parzialmente fenomeni di ombre si osservavano in tubi nei quali era stato fatto il vuoto e che erano sottoposti a una differenza di potenziale Righi riprende gli esperimenti di Crookes li esegue in atmosfera mostrando che anche nell'aria erano particelle elettrificate perché si potevano osservare fenomeni di ombre elettriche questa è una lettera nella quale Crookes comunica a Righi il proprio indirizzo di casa di modo che la loro corrispondenza scientifica che fu poi molto ricca fosse più veloce e non dovesse passare sempre per la Royal Society ma l'incontro di Righi con la grande fisica avviene all'università di Padova dove nel 1888 diviene uno dei principali scopritori dell'effetto fotoelettrico questo piccolo effetto apparentemente piccolo che i fisici conoscono bene la cui comprensione in realtà ha impiegato e richiesto l'interesse di tanti fisici i più importanti dell'epoca che vediamo riportati in quella slide in particolare l'effetto fotoelettrico cambierà l'immaginario teorico della fisica perché porterà Albert Einstein ad introdurre l'ipotesi di fotone che sta alla base della quantizzazione del campo elettromagnetico e quindi della fisica contemporanea Righi si colloca nella prima parte di queste indagini ovvero nella scoperta sperimentale riprendendo delle osservazioni fatte da Heinrich Hertz e da Willem Holwax i quali nel 1888 avevano mostrato che materiali irradiati con radiazione oltavioretta disperdevano elettricità negativa Righi mostra che materiali isolanti e conduttori quando irradiati con la UV si caricano positivamente in funzione della distanza della sorgente dell'estensione del materiale i fisici tedeschi ci terranno a sottolineare che dovendo porgli la priorità della scoperta non voglio astenermi dal menzionare che le leggi del fenomeno trovate fino ad ora sono dovute a lui il luogo però dove Righi ascende dalla rinomanza ad una vera e propria celebrità è sicuramente l'università di Bologna nella quale si trasferisce nel 1889 la fisica di fine ottocento aveva individuato nelle onde elettromagnetiche il principale strumento di oggetto di indagine tali onde erano state previste dalla teoria di Maxwell erano state rivelate per la prima volta nel 1886 da Hertz mentre Hertz era ancora in vita Righi riprende i suoi esperimenti e comincia a perfezionarli costruendo la strumentazione adeguata allo sviluppo di un vero e proprio programma scientifico che consisteva nel mostrare che tutti gli esperimenti noti nel settore dell'ottica ed eseguiti quindi con la luce visibile fossero riproducibili con queste nuove oscillazioni elettriche invisibili agli occhi e che noi oggi chiameremmo onde radio e questo numero del nuovo cimento del dicembre 1894 dove compare il necrologio scritto da Antonio Garbasso per la morte prematura di Hertz e il primo articolo di Righi importante su questo argomento sembra proprio un passaggio di testimone Righi compendia il suo lavoro in questo volume che viene distribuito oggi dal titolo l'ottica delle oscillazioni elettriche il quale secondo lo storico della fisica Mario Gliozzi già nel titolo racchiude e aggiungiamo oggi chiude un'epoca della fisica sappiamo anche che all'interno di questo libro viene descritto quello che si chiama oggi oscillatore di Righi oscillatore a tre scintille uno strumento che contiene in sé la comprensione del meccanismo di controllo della lunghezza d'onda della radiazione elettromagnetica prodotta cioè come si fa a produrre onde radio di qualche millimetro di qualche centimetro o di qualche decina di centimetri di lunghezza d'onda questa cosa viene da subito capita da Guglielmo Marconi che integra questo strumento nel suo primo brevetto che viene considerato una pietra miliare nella storia della telegrafia senza filo tuttavia nel 1903 dopo il successo planetario degli esperimenti di Marconi la prestigiosa rivista scientifica Nature ci terrà a sottolineare che Righi doveva essere considerato il padre della telegrafia senza filo la celebrità raggiunta di Righi è evidente a diversi livelli a livello di Ateneo diviene preside di facoltà e tiene un corso libero che Righi decide di dedicare ai fenomeni elettrici nell'atmosfera e fenomeni elettrici nel corpo umano corso del quale abbiamo tutte le 16 lezioni ancora manoscritte con grande precisione da Righi stesso a livello nazionale diviene socio delle più importanti accademie i lincei l'accademia dei 40 co fondatore e poi presidente della società italiana di fisica e a più volte anche la presidenza della prestigiosa accademia delle scienze di Bologna a livello internazionale ho inserito solo le accademie più importanti la Philosophical Society of London the Royal Institution of Great Britain e le Royal Societies di Londra ed Edimburgo Uppsala e San Pietroburgo oltre che all'Accademie des Sciences di Parigi Un segno della celebrità va anche riconosciuto nell'autorevolezza che viene riconosciuta a Righi come divulgatore della propria disciplina dal 1904 l'editore Cesare Zanichelli comincia a trasformare le conferenze che Righi tiene in libri che diventano libri divulgativi sarà il caso per esempio del libro Il Radio che è la trascrizione di una conferenza dove Righi spiegava le principali scoperte di Becquerel Marie e Pierre Curie tramite una serie di apparati di sua invenzione così sarà anche per il libro Cometa ed Elettroni che sarà la trascrizione di una conferenza che Righi tiene nel 1910 in occasione del passaggio della cometa di Halley dove studierà il fenomeno cometario dal punto di vista della fisica il 1904 è anche l'anno del best seller di stampo filosofico scientifico scritto da Righi ovvero la moderna teoria dei fenomeni fisici questo libro avrà tre edizioni sarà tradotto in inglese e in tedesco e sarà un libro nel quale Righi a partire da quella che era la teoria dell'elettrone di Lorenz sviluppa una propria visione della realtà ultima delle cose dicendo che la fisica poteva descriverla in termini di etere ed elettroni queste idee intrigheranno molto i filosofi di inizio novecento in particolare come veniva citato prima Vladimir Lenin il quale in quegli anni stava scrivendo il proprio trattato filosofico materialismo ed empirio criticismo e che dedica a Righi una lunga sezione dal titolo La materia è scomparsa questa sezione si chiude con queste parole se questo fisico avesse conosciuto il materialismo dialettico il suo giudizio sull'errore opposto a quello del vecchio materialismo filosofico sarebbe forse stato il punto di partenza di una filosofia giusta ma tutto l'ambiente nel quale vivono costoro li tiene lontani da Marx ed Engels e li getta nelle braccia della banale filosofia ufficiale anni dopo proprio un esponente di quella banale filosofia ufficiale citata da Lenin ovvero Benedetto Croce riprenderà questo libro durante la commemorazione al senato tenuta per Righi e dirà come puro scienziato non si limitò ai concetti particolari della scienza ma tentò una generale teoria cosmica la teoria della costituzione elettrica della materia con la quale la fisica stende la mano alla filosofia nel 1907 Righi fonda l'istituto di fisica di Viernerio 46 ricevendo tutta una serie di telegrammi di felicitazioni dai più importanti fisici del tempo ne ho riportato uno per tutti Max Planck ricorrendo il venticinquesimo anniversario mi onoro di presentare sentite congratulazioni e ossequiarla cordialmente in nome della società di fisica tedesca Planck in questi anni la dimensione scientifica si arricchisce di una importante dimensione pubblica istituzionale e di belle immagini legate alla sfera privata di Augusto Righi sappiamo ad esempio che agli inizi del novecento Righi sosteneva le elezioni dell'università Giuseppe Garibaldi la quale fondata dal docente patriota risorgimentale e politico Francesco Lorenzo Pullet aveva la missione di diffondere presso operai e artigiani nozioni di tecnica e cultura generale e in quegli stessi anni il 4 marzo 1905 Righi viene eletto senatore del Regno d'Italia durante il secondo governo Giolitti e in questa veste si occuperà di diverse questioni legate all'istruzione al ruolo dei docenti e degli assistenti universitari e sarà la mente organizzatrice che starà dietro il primo esperimento e trasporto di posta aerea se dovessimo però dire qual è il luogo che oggi come allora catturava e cattura la dimensione intima di Augusto Righi dovremmo sicuramente dire che questa è la cittadina di Montese situata nell'appennino modenese e che Righi grazie alla sua presenza e anche probabilmente la sua capacità relazionale trasforma in un luogo di villogiatura eletto per intellettuali e artisti dell'epoca come Giosuè Carducci e Otorino Respighi entrambi assidui frequentatori di Villa Righi nonostante tutte queste dimensioni altre diremmo oggi il publication record di Righi non accenna minimamente a diminuire esso ammonta 240 titoli in totale che comprendono non solo articoli ma lunghe memorie e tre volumi e vediamo Righi in questi anni occuparsi della fisica di inizio novecento in particolare del famosissimo effetto Ziemann il quale riveste un'importanza capitale perché tramite lo studio della luce che gli atomi emettono permetteva di capire qualcosa della loro struttura interna e di formulare ipotesi sulla struttura dell'atomo Righi sarà un grande conoscitore tra l'altro dei modelli atomici soprattutto del modello elaborato da Thomson e sarà un grande supporter un grande cultore dell'atomo di Nagaoka che anticiperà quello che sarà l'atomo di Rutherford e negli anni in cui Ernst Rutherford creava una connessione fra macromondo e micromondo dicendo che l'atomo doveva essere capito come un piccolo sistema planetario in miniatura Righi si fermerà prima formulando delle ipotesi che riguardano la struttura della materia ad un altro livello dirà per esempio che ioni ed elettroni possono vivere insieme in uno stato semilegato ruotando attorno ad un centro di massa comune come fanno le stelle doppie nell'universo o come le comete intorno al sole ma lì è la forza gravitazionale che li tiene insieme e qui è la forza magnetica questo strumento questo enorme tubo di vetro che esiste in unica copia aveva proprio il compito di separare i ben noti raggi catodici la cui interpretazione era nota da questi altri raggi magnetici che ancora necessitavano di interpretazione nel 1918 Righi diventerà membro del celebre istituto Solvay e insieme a Hendrick Lawrence Marie Curie Lawrence Bragg e ovviamente Anne Strutherford organizzerà la conferenza del 21 dedicata al tema atomi ed elettroni tuttavia egli non potrà partecipare a questo meeting poiché la morte lo colse l'8 giugno del 1920 quando stava lavorando ad un articolo proprio sull'altro quadro importante della fisica novecentesco ovvero la relatività sulla teoria della relatività e sopra un progetto di esperienza decisiva per la necessità di ammetterla Righi stava riflettendo come molti altri sperimentali faranno fino agli anni 30 sul famoso esperimento di Michelson e Morley che voleva spazzare via l'etere ottocentesco aprendo la strada alla teoria della relatività speciale e Righi da buon sperimentale voleva vederci chiaro tra l'altro quest'articolo venne consegnato da Righi alla tipografia il giorno prima di morire dicendo che ne sarebbe stata inviata poi un'ulteriore bozza conclusiva il giorno dopo e la pubblicazione del nuovo cimento che si può scaricare include questa bozza finale che è ancora scritta in modo appuntistico come ricordava il direttore il dato più importante del prestigio scientifico di Righi sta nei 15 anni nei quali viene nominato consecutivamente per il premio Nobel ottenendo 40 candidature in totale e venendo proposto da importanti fisici europei come Harry Poincaré Harry Becquerel e Peter Zeman e da importantissimi fisici e scienziati italiani come Orso Mario Corbino Giacomo Ciamiccian e Vito Volterra vorrei chiudere questa presentazione proprio con le parole di Giacomo Ciamiccian fondatore del Dipartimento di Chimica e amico fraterno e collega di Righi il quale nella commemorazione tenuta per Righi al Senato prende la parola per ultimo e fa un ritratto scientifico di Righi stesso dicendo posso dirvi però qualcosa di più intimo del modo di come il Righi lavorava e come egli concepiva egli aveva ciò che si può dire l'intuizione dell'esperimento nel senso che pensava sperimentando come ha magistralmente messo in rilievo il senatore Volterra lo sviluppo della fisica degli ultimi 50 anni si rispecchia nei suoi lavori ogni fatto nuovo ogni nuova teoria trovava un eco nella sua mente ed ancor più nel suo intuito sperimentale quando Righi si interessava di qualche esperienza eseguita da altri diceva la voglio ripetere ma ripeterla voleva dire trasformarla di giorno in giorno nuovi fatti si aggiungevano ai fatti ed in capo ad un mese ad un anno un magistrale lavoro sorgeva così nacque l'ottica delle oscillazioni elettriche che ebbe il seguito a tutti noto così l'ho potuto seguire nella sua carriera scientifica dal 1888 in poi e lo vidi ascendere dalla rinomanza alla celebrità e dopo avervi svelato da dove ho preso il titolo per questa presentazione vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola ai colleghi dopo la relazione introduttiva del dottor Bertozzi apriremo con la tavola rotonda la relazione del dottor Bertozzi ha avuto la funzione di introdurre gli elementi che saranno discussi e approfonditi nel corso della tavola rotonda, che sarà condotto dal dottor Marco Cattaneo, che presento, lui stesso fisico, ben noto direttore di importanti riviste scientifiche, tra cui le scienze, molto cara a noi fisici e non solo noi fisici. Parteciperanno alla tavola rotonda il professor Roberto Balzani, che invito professor Roberto Balzani, prego, professor Roberto Balzani è ordinario di storia contemporanea presso la nostra università, è presidente del sistema museale di Ateneo, direttore dell'Istituto di Beni Culturali dell'Emilia Romagna. Poi invito il dottor Paolo Brenni. Il dottor Paolo Brenni è ricercatore del CNR, è uno storico della strumentazione scientifica, curatore di importanti cataloghi di collezioni scientifiche, tra l'altro ha curato il restauro di alcuni strumenti della nuova esposizione Righi, che potrete vedere al piano superiore di questo stabile. Poi, in collegamento dalla sua casa romana, quindi virtualmente, il professor Luciano Maiani, già ordinario di fisica teorica presso l'Università della Sapienza di Roma, notissimo nel nostro ambiente, non solo per i suoi fondamentali contributi alla fisica delle particelle, è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e direttore generale del CERN. A lui un benvenuto, avrei voluto essere presente, ma impegni dell'ultimo momento gli hanno impedito. la professoressa Nadia Robotti, ordinaria di storia della fisica presso l'Università di Genova, è esperta di storia della fisica atomica, nucleare e della meccanica quantistica, tra gli altri, come è stato ricordato, è coautrice di un testo i fisici senatori, che sicuramente oggi verrà citato. A loro va il mio più sentito ringraziamento per avere voluto partecipare a questa giornata e lasciatemi solamente un secondo per dire che a questo progetto hanno contribuito certamente alcuni docenti, ma soprattutto tantissimi colleghi delle diverse divisioni amministrative dell'Ateneo ed anche alcuni colleghi del Dipartimento, del Comparto Tecnico Amministrativo, che voglio ringraziare. Voglio poi ringraziare il professor Giorgio Dragoni, storico della fisica, presso il nostro Dipartimento, che ha dedicato gran parte della sua attività di ricercatore e di studioso alla figura di Augusto Righi. Infine, un saluto alla famiglia Righi, numerosa, ben rappresentata, e all'ingegnere Giampaolo, che purtroppo non può essere presente. Grazie per l'attenzione ed un augurio a tutti voi per una piacevole mattinata. Buongiorno a tutti, intanto grazie a Nicola Semprini per avermi voluto a moderare questa tavola rotonda che è interessantissima e, insomma, io ormai sono un cittadino orario di Bologna, quasi. Mi accomodo anche su questo scranno Vescovile che mi avete messo a disposizione e, insomma, essendo un dissacratore, stamattina passavo per Via Irnerio e mi sono accorto subito che c'è un Righi, negozio che vende macchine per cucire all'inizio della via, venendo da questa strada. Lo saprete tutti a Bologna, ma per uno che arriva da fuori. E ho pensato, però, una cosa che alla fine è una metafora molto interessante perché Augusto Righi alla fine è alla cucitura tra due epoche, no? Sia dal punto di vista storico, subito dopo l'Unità d'Italia, e arriva, la sua vita finisce, è a cavallo tra 800 e 900, è a cavallo tra due epoche dal punto di vista della fisica. Grazie Nicola per avermi dato del fisico non praticante, ahimè, nel senso che io faccio solo il giornalista, però mi sembra che ci sia un passaggio, evidentemente, tra la rivoluzione, più che la rivoluzione, la grande sintesi dell'elettromagnetismo di Maxwell e arriviamo quasi alle porte della rivoluzione quantistica, quella sì. Per cui la figura di Augusto Righi con le macchine da cucire improvvisamente mi si è materializzata come una figura che stava proprio a cavallo, proprio nel punto in cui si cuciono due epoche diverse, sia dal punto di vista della storia, sia dal punto di vista della politica, sia dal punto di vista della storia e della fisica. Allora mi fa particolarmente piacere cominciare a parlare del contesto storico in cui si è mosso Augusto Righi, dando la parola per primo al professor Balzani che ci può un pochino inquadrare appunto quello che è il contesto non solo della parte del lavoro da fisico, ma anche quello politico in cui si muoverà Righi durante gli anni della sua carriera e delle sue innumerevoli attività. Prego. Sì, grazie, buongiorno a tutti. E pochissimi cenni per introdurre questo argomento, per contestualizzarlo. Dopo l'Unità d'Italia ci sono alcune figure che cercano di dare una spinta al rinnovamento degli studi superiori nel nostro Paese. E sono degli scienziati. Il primo è Carlo Matteucci che è un fisico, un fisiologo, il quale, ministro dell'istruzione nel 1862, cerca, ha un'idea, che è quella di rendere il nostro Paese un Paese comparabile con quello delle grandi potenze occidentali e gli pensa che ci debbano essere pochi grandi centri di ricerca, che l'università non possono essere numerose e si scontra quindi inevitabilmente con quello che era stato invece la tradizione, chiamiamola così, polifonica dell'università italiana del periodo precedente, dell'età moderna, che era stata in qualche modo legata molto al municipalismo. E tuttavia, quello è il primo accenno a una trasformazione radicale delle forme di sapere attraverso investimenti, per esempio, nei laboratori e oppure il rinnovamento di un istituto come la Scuola Normale Superiore che in quel momento diventa il punto di riferimento dell'intera nazione. Un altro a raccogliere questa eredità dopo il 1870 alla conquista di Roma da parte degli italiani è Quintino Sella, che è in realtà un ingegnere idraulico, ma come sapete è anche un grande esperto di mineralogia e di geologia, il quale vorrebbe fare di Roma, e in particolare di Roma, la capitale della scienza. Quindi in qualche modo lasciando alle spalle le grandi tradizioni antiche e religiose e rilanciare la scienza come fulcro della nuova Italia. Tant'è vero che poi si occuperà della fondazione dell'Accademia dei Lincei, della sua ristrutturazione, eccetera eccetera. Anche Quintino Sella ha questa idea di una Italia scientifica soprattutto mirata alle scienze, all'ingegneria e quindi in qualche modo destinata a vedere, in qualche modo a ridurre il peso della tradizione da un lato della giusprudenza all'altro della medicina che come sappiamo erano i grandi due filoni degli iscritti nella Università Italiana. È un momento molto importante per la vita della Università Italiana, sono gli anni in cui anche sotto la destra storica un po' di finanziamenti a questo tipo di impostazione arrivano. C'è da dire però che complessivamente il numero degli studenti universitari cresce molto lentamente nel nostro Paese. Nel 1871 sono appena 13.000 ma 20 anni dopo ci sono quasi 28-30.000 e questa sarà la dimensione che rimane fino a tutta l'età giolittiana. Se prendiamo il caso di Bologna gli iscritti alle materie scientifiche crescono proprio durante il periodo di Righi. È quella diciamo nel 1890-91 in quell'anno accademico sono circa il 10% degli iscritti stiamo parlando complessivamente di qualcosa come 1.400 persone gli iscritti all'Università di Bologna nel 1911 gli iscritti non arrivano a 2.000 questa è la dimensione ebbene circa 20 anni dopo all'inizio del 1900 gli iscritti alle discipline scientifiche prese nel loro complesso esclusa naturalmente ingegneria sono circa il 20% quindi raddoppia questa percentuale e viene raddoppiata proprio per un impegno di alcuni grandi personalità che riescono a trasferire anche nella comunicazione e anche nella suggestione che viene adatta ai giovani l'idea di una scienza che deve essere protagonista dello sviluppo italiano naturalmente si tratta anche di una spinta che è sollecitata da rettori come Capellini che viene dalla geologia che quindi in qualche modo incarna questa spinta questa propulsione e non a caso l'addizione di Capellini è un po' la testimonianza di questo progetto scientifico di rinnovamento dell'università ma bisogna dire questo si collega direttamente a figure di questo tipo figure di questo tipo che vengono anche come ha dimostrato la professoressa Robotti diventano anche figure politiche dentro soprattutto dentro il senato per quale motivo perché c'era una legge che vincolava il numero dei professori universitari e in generale dei dipendenti pubblici che potevano essere eletti alla Camera per cui se se ne leggevano di più venivano estratti a sorte questo era il caso di Carducci che era stato eletto nel 1876 a Lugo di Romagna pensava di fare il deputato ma ahimè non era stato estratto e quindi nel Parlamento non entrò mai mentre divenne senatore nel 1890 dalla fine del secolo il senato diventa dal luogo nel quale stavano i grandi notabili aristocratici militari della monarchia un luogo attraverso il quale si seleziona anche un'aristocrazia del sapere e questo è particolarmente importante nell'Italia giuridiana perché consente di compensare quelli che erano stati i limiti di reclutamento del Parlamento che viceversa si era potuto espandere soprattutto nelle professioni liberali però al di fuori del sistema pubblico basti pensare agli avvocati che costituivano la stragrande maggioranza dei deputati strutturalmente nel Parlamento italiano ma non solo e dedicarsi anche alla selezione di quest'altro nucleo assolutamente prezioso per lo sviluppo della civiltà italiana rinata un ultimo piccolo dettaglio i tentativi di tradurre diciamo di interpretare questo passaggio dalle scienze anche allo sviluppo ci sono basti pensare per fare solo il caso del telefono al fatto che nel nostro paese come forse loro sapranno c'è una precocità non solo della ricerca sulla telefonia ma anche sulle applicazioni della telefonia che tocca il culmine fra gli anni 80 e i primi anni 90 ma poi non c'è un'industria telefonica che supporti questa ricerca che ahimè questa ricerca decade per molto tempo e il paese perde un treno lo descrive molto bene questo percorso lui girava professore di scienza dell'amministrazione della nostra università e quindi collega di Righi in un libro bellissimo ma ahimè la descrizione di un fallimento industriale che è proprio dedicato al telefono in Italia grazie 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 professor Balzani e adesso ecco lei ha accennato questo rinascimento scientifico che è proprio quella frase che già il dottor Bertozzi aveva accennato di JJ Thompson egli fu una delle guide spirituali del grande rinascimento scientifico in Italia che tanta parte ha svolto nella recente storia del paese ahimè ha nominato anche la lenta crescita degli studenti universitari cosa che purtroppo prosegue tuttora cioè a distanza di un secolo e più ancora abbiamo una lenta crescita del numero degli studenti universitari però ritornando al tema la figura di Augusto Righi in fisica l'abbiamo già accennato sta come dire a cavallo tra due epoche particolari e in realtà le cuce in qualche modo perché c'è stata la grande sintesi di Maxwell e Augusto Righi si occupa dello studio dell'elettromagnetismo e dei fenomeni dell'elettromagnetismo dall'altra parte c'è la parte dello studio della materia che appena arrivato JJ Thompson sarà celebrato come lo scopritore dell'elettrone per l'appunto per cui Augusto Righi si colloca anche qui a cavallo di queste due parti della fisica e io vorrei che di questa fase che sta tra Maxwell e direi poi la sintesi della meccanica quantistica ci raccontasse qualcosa il professor Luciano Maiani Luciano c'è eccolo però non c'è l'audio devi riattivare l'audio voglio ringraziare Nicola Semprini per questo invito che mi dà l'occasione di riapparire magari soltanto in video purtroppo all'Università di Bologna a cui sono molto legato con colleghi amici eccetera e mi fa molto piacere parlare di questa figura di Augusto Righi io ho preparato un paio di slides su questo se ecco se posso vederle passando alla prossima ecco allora clic due volte ecco benissimo qui vedete una sintesi di date di eventi su cui già si è detto qualcosa la descrizione panoramica della fisica della seconda metà dell'Ottocento non può che partire da Maxwell Maxwell realizza una grande sintesi chiamata l'unificazione del magnetismo e dell'elettricità due cose fino allora completamente separate e le equazioni di Maxwell lanciano l'idea che la luce sia un'onda dei campi elettromagnetici però c'è un altro aspetto che dobbiamo a Maxwell cioè l'approfondimento della teoria statistica della materia cioè della teoria che cerca di interpretare i fenomeni della termodinamica cioè i fenomeni collegati al calore alla temperatura eccetera in realtà al movimento degli atomi e Maxwell studia i gas come oggetti composti di atomi in moto e determina le leggi statistiche che danno la velocità della singola molecola del gas la famosa distribuzione di Maxwell nel 1887 Eric Hertz osserva le onde elettromagnetiche emesse da una sorgente costruita in laboratorio le onde orziane cioè mettendo insieme cariche elettriche in movimento si generano delle onde che hanno tutte le caratteristiche della luce tranne che naturalmente la lunghezza d'onda è molto più grande nel 1897 J.J. Thompson scopre l'elettrone l'elettrone l'atomo di elettricità si sapeva fino ad allora molti pensavano che l'elettricità fosse un fluido un fluido continuo come il calore che era un'altra dei fluidi introdotti nell'Ottocento e invece l'elettrone è da una struttura corpus muscolare all'elettricità l'elettricità è semplicemente dovuta agli elettroni che si muovono nel vuoto nei conduttori eccetera negli stessi anni Henry Lorenz sviluppa una visione della materia la materia è fatta una visione basata sull'elettricità cioè gli atomi contengono particelle elettrizzate e le vibrazioni di queste particelle elettrizzate generano le onde luminose e naturalmente dopo la scoperta di J.J. Thompson Lorenz identifica queste particelle con l'elettrone e la sua teoria prende il nome di la teoria dell'elettrone è il primo esempio di quella che oggi chiameremmo la teoria del tutto una teoria che ambisce a spiegare tutti i comportamenti della materia e della radiazione in termini degli elettroni e delle leggi a cui questi elettroni obbediscono che sono peraltro le equazioni di Maxwell io sono molto legato alla teoria dell'elettrone perché è la prima cosa della fisica che ho studiato mi è capitato per le mani il libro di Lorenz e lo leggevo in autobus andando alle mie lezioni mi ha assolutamente folgorato questa idea di risalire al comportamento ai fenomeni complicati partendo dalle loro radici nei componenti elementari negli anni 90 1890 1900 Augusto Righi studia appunto come è stato detto più volte la propagazione di un elettromagnetico prodotto in laboratorio dai suoi apparati di cui è stato già parlato e soprattutto dimostra che queste onde hanno tutte le proprietà che noi avevamo già osservato nella luce riflessione rifrazione diffrazione in un certo senso chiude completamente l'argomento se la luce sia un fenomeno elettromagnetico la risposta è sì Righi riproduce il laboratorio delle onde che sono esse stesse generate da fenomeni elettrici e mostra che queste onde hanno tutte le proprietà che noi vediamo nella luce in quegli anni diciamo Guglielmo Marconi emerge è giovanissimo e Guglielmo Marconi è un completo autodidatta però va spesso a trovare Righi nel suo laboratorio per chiedergli consigli spiegazioni e chiarimenti e come lui stesso dirà e come anche Righi diciamo menziona questi consigli e questi esperimenti lo incoraggiano ad andare per la sua grande scoperta la telegrafia senza fili i risultati delle ricerche di Augusto Righi sulle onde elettromagnetiche sono riassunti in un libro fondamentale che appare nel 1897 l'ottica delle oscillazioni elettriche pubblicato da Zanichelli con questo finisce diciamo la seconda metà dell'ottocento e passiamo al novecento Augusto Righi nel novecento pubblica nel 1903 un libro con The South che viene pubblicato da Zanichelli ma viene anche pubblicato da un editore inglese La telegrafia senza fili è un libro che affronta in maniera assolutamente completa il problema della scoperta di Marconi e delle onde radio e della telegrafia senza fili ed è straordinario che sia scritto un libro così completo sia scritto proprio immediatamente dopo la scoperta della telegrafia senza fili di Marconi mostra diciamo quanto Righi avesse una padronanza di un termine di un campo che aveva visto nascere direttamente non solo dalle sue ricerche ma anche dalle parole del giovane Giuliano Marconi è molto interessante menzionare del 1907 la lezione inaugurale per l'inaugurazione dell'istituto di fisica di cui abbiamo già parlato in questa lezione inaugurale Righi espone le attuali teorie sulla costituzione della materia quindi è un panorama completo di tutto quello che era stato sviluppato appunto attraverso le idee di Lorenz di Thompson e di tutti gli altri e dello stesso Righi su come i fenomeni elettrici potessero spiegare i fenomeni collegati alla materia e alla luce e naturalmente questo schema si svolge nell'ambito della fisica classica ed è come la teoria dell'elettrone di Lorenz l'estrema frontiera della fisica classica della fisica atomica prequantistica nel 1907 noterete che già c'è stato il lavoro di Planck del 1900 e il lavoro di Einstein del 1905 quindi la relatività speciale è ormai sul tappeto perché il lavoro di Einstein era assolutamente completo ma mentre invece nasce si vede nascere la teoria di quantistica tra l'altro nel 1905 il lavoro di Einstein sull'effetto fotoelettrico nel 1911 Righi scrive un lungo articolo su Nature che è una descrizione dei risultati scientifici di J.J. Thompson a prima vista sembra un necrologio ma non è perché nel 1911 J.J. Thompson aveva non solo scoperto l'elettrone ma stava lavorando e aveva un'attività di ricerca diciamo assolutamente piena e infatti Righi scrive che di queste ricerche di Thompson i fisici aspettano con impazienza la pubblicazione di un trattato che le presenti non solo come data ma anche con quella esposizione chiarezza e concisione che sono caratteristiche preziose della scrittura di Thompson in questa descrizione sono menzionate due cose molto importanti il modello atomico di Thompson che prevedeva che gli elettroni fossero delle particelle immerse in una sfera di carica positiva che è quello che oggi chiamiamo gli ioni e che avessero normalmente delle posizioni di equilibrio e proprio le oscillazioni intorno a queste posizioni di equilibrio dovevano generare la luce la luce emessa dagli atomi e poi anche i risultati di Rutherford che sono completamente contraddittori a questo e che dicono che in realtà gli atomi sono fatti di vuoto gli elettroni sembrano orbitare intorno a un nucleo pesante molto più piccolo della dimensione dell'atomo e che le cariche positive sono contenute in un nucleo pesante che sta al centro dell'atomo inoltre Rutherford aveva osservato che la radioattività alfa che era a quel tempo di grande attualità la radiazione emessa dai decadimenti che chiamiamo decadimenti alfa è costituita da particelle che sono proprio i nuclei degli atomi di elio appare qui per la prima volta una nuova visione del mondo atomico che si dispiegherà nel novecento vedete in questo cartoon schematico quello che emerge dai risultati di Rutherford un pezzo di materia è fatto naturalmente di atomi gli atomi hanno una dimensione di circa un centomilionesimo di centimetro ma gli atomi il singolo atomo è in realtà un minuscolo sistema planetario con un nucleo al centro che ha una dimensione circa centomila volte più piccola dell'atomo ma che contiene tutta la massa dell'atomo sostanzialmente e intorno una nuvola di elettroni che orbitano naturalmente tenuti dalle forze elettriche intorno a questo atomo vedremo più avanti come siamo andati più avanti nel tempo e un pochino più tardi vi mostrerò il resto delle mie slides che mostrano come oggi pensiamo possa essere fatta una teoria del tutto grazie 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 a Luciano Magliani per questo quadro io continuerei la mattinata continuando a saltare da una parte all'altra nel senso che passiamo torniamo dalla fisica alla figura pubblica di Augusto Righi direi perché abbiamo visto questa è un'epoca in cui gli scienziati fanno spesso parte come ci è già stato raccontato poco fa fanno spesso parte delle istituzioni e all'interno delle istituzioni hanno un peso importantissimo è stato nominato Quintino Sella sappiamo che Augusto Righi è stato docente di Orso Mario Corbino che poi successivamente sarà tra virgolette il padre della scuola di Via Panisperna in qualche modo per cui la presenza degli scienziati che danno una spinta innovativa all'Accademia Italiana e spingono dall'interno della politica per un rinnovamento completo del mondo universitario persino delle discipline studiate perché nasce la cattedra di fisica teorica a Roma proprio per fermi per il giovanissimo fermi allora visto che c'è qualcuno a questo tavolo che ha scritto un libro o comunque ha contribuito a un libro che parla di fisici senatori io chiederei questa parte appunto di raccontarci la presenza di Augusto Righi in senato alla professoressa Nadia Robotti professoressa prego credo che lei possa rimanere dov'è anche perché non dobbiamo muoverci più di tanto ringrazio gli organizzatori dell'invito che ho accettato con grandissimo piacere bene vi parlerò di Augusto Righi senatore del regno d'Italia ma la tolgo ecco lì è una fotografia di Righi che abbiamo trovato nel fascicolo personale in senato e sotto è la sua firma ecco l'attività scientifica di Righi come abbiamo visto fu lunga e intensa e a partire dal 4 marzo del 1905 all'attività scientifica si aggiunse un'attività istituzionale altrettanto intensa infatti in quel giorno Righi fu nominato non eletto nominato dal re Vittorio Emanuele III senatore del regno d'Italia nella categoria 18 cioè membro della regia Accademia delle Scienze dopo 7 anni di nomine ecco qui abbiamo messo la copertina del libro che è stato citato anche dalla nostra presidente della SIF allora Righi fu uno dei 21 tra fisici che erano 16 e astronomi 5 che tra l'emanazione dello statuto Albertino che è avvenuto nel 1848 e la caduta del regime fascista 1943 sedettero nei banchi del senato del regno un senato che diversamente da quello attuale non era elettivo ma totalmente a nomina regia e i senatori erano nominati a vita tra i cosiddetti fisici senatori Righi si destinse come uno dei protagonisti più attivi e apprezzati non a caso alla sua morte gli furono riservati in senato ben 8 commemorazioni e questo era un fatto eccezionale ecco se andiamo a vedere la distribuzione dei fisici senatori dell'Italia liberale cioè tra il 1861 e il 1922 vediamo che l'attività di Righi che l'ho indicata con delle frecce che va dal 1905 al 1920 si sovrappone con quella di Schiaparelli Blaserna Fergola Pacinotti Volterra Celoria Leonardo Cattolica Marconi Mengarini e con alcuni di questi senatori Righi farà proprio delle battaglie questo è un atto parlamentare in cui c'è riportato l'intervento di Righi e questi atti parlamentari sono stati gli strumenti fondamentali di lavoro mio e di Matteo quando abbiamo affrontato il problema dei fisici senatori ecco molti furono i temi toccati da Righi in senato ad esempio si occupò di istruzione ricerca con particolare riferimento alla rivalutazione del ruolo degli assistenti a questo proposito intervenne ad esempio nel marzo del 1906 nell'ambito della discussione in senato sul disegno di legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie che è stato il più importante tentativo di riforma dai tempi della legge casati che risale al 1859 con tale provvedimento che diventerà poi o regio decreto passerà infatti il principio dell'obbligo del concorso per la missione all'insegnamento nelle scuole medie e governative in questa occasione Righi supportato da un altro fisico senatore Antonio Facinotti che è qui riprodotto in quello che fu un autentico gioco di squadra e attraverso appunto grazie a Facinotti riuscì a far passare un emendamento secondo cui ai concorsi speciali banditi per ricoprire le cattedre nelle sedi più importanti riservati agli insegnanti già in servizio stabile potevano partecipare anche gli assistenti in realtà perché questo interesse di Righi in realtà il problema centrale secondo Righi era quello di trovare per gli assistenti una sistemazione economica adeguata se non si voleva nelle parole di Righi vederli cedere alle losing economiche di altre professioni a scapito della carriera scientifica infatti diceva che i loro stipendi erano indecorosamente esigui e qualche volta inferiori a quelli dei nostri inservienti e questa sarà una battaglia che Righi porterà avanti fino alla vita alla fine della sua vita ma che troverà una vittoria soltanto nel 1958 quando ci sarà la legge sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari un'altra battaglia che porta avanti appoggiato soprattutto da Pietro Blaserna che è qui nella slide riguardava l'inefficienza talvolta paradossale della burocrazia ministeriale queste sono parole di Righi in riferimento soprattutto ai pagamenti dei conti presentati dagli istituti scientifici questa però fu una battaglia che non riuscì a vincere ancora adesso però si era impegnato moltissimo ci sono dei brani splendidi degli interventi spettacolari perché era anche molto ironico sempre nell'ambito dell'istruzione e ricerca un'altra delle tante battaglie combattute con un certo successo da Righi in senato riguardò la difesa dalla figura del professore merito la legge sull'istruzione superiore del 1910 aveva previsto con questo articolo 123 che i professori in via eccezionale una volta raggiunta l'età della pensione cioè 75 anni pontevano mantenere il grado e l'ufficio di professore ordinario cioè diventare professori emeriti su nomina da parte del consiglio superiore della pubblica istruzione poiché tale norma fu da subito applicata con una notevole larghezza con il risultato che si ebbero nell'arco di pochi anni già 15 insegnanti che superavano gli 80 anni di età si sueguirono diversi tentativi di abolire la figura del professore emerito cioè quest'articolo 123 e contro l'abolizione di quest'articolo si espresse in più occasioni righe in particolare per quanto riguardava il caso dei cultori delle scienze sperimentali ecco infatti secondo righe questi cultori delle scienze sperimentali senza poter accedere al laboratorio si sarebbero trovati privati dei mezzi di studio e condannati all'ozio forzato per una misura assolutamente crudele e iniqua alla fine i vari tentativi di abrogare l'articolo 123 da un lato e le pressioni di righe dall'altro lato portarono alla legge numero 157 del 1917 in cui la figura del professore emerito veniva ridefinita cambiando la norma per la sua nomina ora questo compito spettava alle facoltà come adesso e non più al consiglio superiore della pubblica istituzione e introducendo la clausola tanto auspicata da Righi secondo cui guardate che bella se il professore emerito è cultore di scienze sperimentali il professore che gli è succeduto nella cattedra e nella direzione dell'istituto sarà tenuto a fornirgli mezzi necessari per il libero insegnamento e per i singoli studi sperimentali di cui il professore emerito intendesse occuparsi Righi che certamente auspicava di avvelersi dalla legge 557 a cui appunto aveva contributo in modo forte non farà comunque in tempo a trovarsi nella situazione descritta scomparendo l'8 giugno del 1920 non ancora compiuti 70 anni di età comunque questa clausola sui cultori di scienze sperimentali verrà abolita col testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933 però fino al 1933 c'è stata ma le attività di Righi in senato non si limitarono ai tipici ambiti di interesse per un professore universitario quali quelli dell'istruzione della ricerca Righi fu ad esempio uno dei massimi promotori di nuovi impianti di derivazione delle acque a fini energetici inoltre fu tra i promotori in senato della posta aerea infatti nel 1917 il ministro Luigi Fera diede mandato a una commissione presieduta da Righi di studiare la possibilità di usare il mezzo aereo per i trasporti postali Righi venne scelto nelle parole del ministro perché porta allo studio di questi problemi tutto l'altissimo suo valore scientifico e tutta la sua grande probità la commissione di Righi approvò in breve tempo l'impianto di due linee di prova una affidata all'industria privata e l'altra alla direzione generale dell'aeronautica sotto il controllo dell'amministrazione postale i test si svolsero nello stesso anno 1917 ecco il 22 maggio di quell'anno infatti si tenne con successo il primo esperimento di trasporto aereo postale privato da Torino a Roma e in quell'occasione furono stampate alcune cartoline commemorative proprio perché è stato un evento eccezionale per l'Italia l'11 giugno del 17 si tenne invece il primo esperimento di servizio postale statale organizzato dalla direzione generale dell'aeronautica sulla linea tra Civitavecchia e Terra Nova che è vicino a Dolbia con un idrovalante della Regia Marina il successivo 27 giugno ebbe ufficialmente inizio il servizio di posta aerea tra queste due località il giorno dopo si ebbe insenato la discussione sull'ordine del giorno che si chiamava per il servizio aereo postale tra il continente e la Sardegna che è stata aperta dal ministro Fera con la presentazione del lavoro della commissione Righi nella sua replica dopo aver pregato i colleghi di mettere un coefficiente di riduzione alle lodi che l'onorevole ministro ha voluto tributarmi così proseguiva è certo che l'avvenimento di ieri ha molta importanza soprattutto mordare ha soprattutto un'importanza morale perché si può assistere leggi che fra tutte le nazioni civili d'Italia che tra tutte le nazioni civili d'Italia istituisce per prima un servizio regolare di trasporti con un mezzo che non hanno ancora osato adottare le altre nazioni si tratta per ora di trasportare lettere corrispondenze oggette e molto probabilmente anche in futuro persone se per il momento queste probabilmente non sarebbero molte fra qualche tempo saranno meno rare il servizio di posta aerea tra Cività Vecchia e Terra Nova che faceva uso di una flotta di otto idrovolanti venne momentaneamente sospeso nell'ottobre successivo dopo 25 traversate per via della concomitante ritirata di Caporetto che aveva richiamato al fronte tutti i piloti e i veiboli comunque terminata la guerra questo servizio di posta aerea cominciò a svilupparsi velocemente in tutta Italia inizialmente utilizzando in prevalenza idrovolanti e successivamente aeroplani e questo va detto grazie anche a Ricky Senatore grazie 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 alla professoressa Robotti anche se tra lei e il professor Balzani insomma mi fan pensare che tra il lento aumento degli iscritti all'università i salari degli assistenti e la burocrazia insomma cent'anni trascorsi in vano ecco un po' più di cent'anni trascorsi in vano dopodiché a quell'epoca si parlava anche di altissimo valore scientifico dei senatori di probità e i senatori erano modesti quindi qualcosa in effetti è cambiato ora detto questo professor Brenni c'è una parte una parte degli studi di Augusto Righi a cui abbiamo già accennato che è la parte degli studi in particolare dell'elettromagnetismo nei gas in questo senso c'è tutto un filone di studio anche di quelli che sono stati gli strumenti inventati costruiti e adottati da Augusto Righi questa è una parte un po' meno conosciuta per un fisico perché è una parte un filino più ingegneristica o per lo meno per un fisico degli anni 80 del 900 quale io sono insomma laureato in fine anni 80 quindi gli strumenti li avevamo già tendenzialmente in laboratorio quando ho finito io mentre invece a quei tempi c'era molta più come dire molta più attività di invenzione anche da questo punto di vista anche nel singolo laboratorio ci racconta un po' questo aspetto della strumentazione usata da Righi e soprattutto nell'indagine sperimentale delle onde elettromagnetiche innanzitutto voglio ringraziare per avermi invitato qui e soprattutto per aver avuto la possibilità con la mia collega Anna Giatti di toccare materialmente di riordinare e restaurare una parte degli strumenti del Righi che vedrete dopo mettendo mano a questi strumenti e materialmente smontandoli studiandoli e cercando di rimetterli nel miglior stato possibile ci si rende conto dell'ingegnosità del Righi Righi si è visto anche nelle relazioni dei colleghi che mi hanno preceduto sarebbe riduttivo dire che era un fisico sperimentale fu non solo un fisico sperimentale ma fu certamente un eccellente sperimentatore e questo lo si vede guardando tutti i suoi strumenti o comunque quelli che lui ha utilizzato nelle sue ricerche e anche nelle sue dimostrazioni perché potrei citare entrerò poi in qualche dettaglio gli strumenti per le dimostrazioni sulle onde erziane ma gli strumenti sulle scariche elettriche però si occupò di strumenti elettrici di misura migliorando gli elettrometri proponendo l'elettrometro a induzione si occupa anche di strumenti ottici infatti scrive sui miglioramenti di un polarimetro e poi si occupa anche di strumenti più didattici non tanto strumenti che servono a diciamo aumentare nuove conoscenze ma servono a propagare le conoscenze già acquisite fra questi per esempio gli strumenti per la dimostrazione delle figure di lissajù cioè quelle figure che si formano combinando insieme due oscillazioni una normale all'altra cioè due oscillazioni ortogonali non solo Marighi fa un passo più in là e spiega come ottenere come studiare le figure di lissajù tridimensionali cioè una due e tre oscillazioni contemporaneamente e studiando quest'articolo mi ha fatto venire voglia di ripeterlo perché deve essere molto interessante vedere cosa lui riusciva a vedere ad esempio negli strumenti fra i più importanti per lo studio delle onde elettromagnetiche e per la dimostrazione che le onde che la luce e che le onde elettromagnetiche si comportano come la luce Righi diciamo sfoggia tutta la sua abilità di sperimentatore perché come già stato ricordato non solo costruisce degli apparecchi che permettono di generare delle onde elettromagnetiche sempre più corte fino a qualche centimetro e anche meno cosa che gli permette di vedere e fare cose che con gli strumenti di EERS non sarebbero stati possibili perché gli strumenti di EERS producevano onde troppo lunghe e per ottenere certi effetti di interferenza polarizzazione sarebbero stati necessari costruire strumenti troppo grandi molto grandi per riuscire a vedere questi effetti di modo che lui lavora con onde centimetriche sempre più piccole e migliora notevolmente inventa cose che EERS non aveva ad esempio EERS rivelava i nodi e i ventri delle onde elettriche stazionarie utilizzando un anello di metallo interrotto con due sfere fra le quali scoccava una piccola scintilla ovviamente era uno strumento di difficile uso Righi fa un passo più in là e per le sue onde usa ad esempio uno spinterogeno cioè un apparecchio per generare delle scintille rivelatrici piccolissime cosa fa prende uno specchio con un apparecchio apposito lo taglia taglia l'argentatura con un diamante e diciamo nel taglio fra le due superfici d'argento vicinissime lui osserva con un oculare le scintille prodotte dalle onde elettromagnetiche questo è uno dei tanti accorgimenti che che Righi propone e che diventano poi standard ecco tutta la sua apparecchiatura praticamente se voi leggete gli articoli in cui descrive queste esperienze lui il suo sogno che realizza in fondo è di trasferire tutte le esperienze fatte da Fresnel e gli altri interferenza polarizzazione eccetera eccetera trasferirle dalla luce a delle onde elettromagnetiche centimetriche e ci riesce perfettamente voi nell'esposizione vedrete dei prismi delle lenti di zolfo perché non si può usare il vetro vetro va bene per le onde luminose usa tutta una serie di accorgimenti e permette di costruire la summa diciamo di quello che è la dimostrazione sulle sulle onde elettromagnetiche che si comportano come la luce altri strumenti molto interessanti e peculiari del Righi sono dei tubi a vuoto che lui ha usato per tutte le sue esperienze sulle scariche elettriche a bassa pressione sui cosiddetti raggi magnetici per cui lui lavorò molti anni e si vede anche studiando cosa cercava di vedere questa si vede l'abilità nel costruire un tubo un oggetto che gli permetteva nel miglior modo possibile di studiare l'effetto che lui cercava oltretutto possiamo dire molti strumenti erano strumenti che provenivano dall'estero Righi li modificava altri strumenti erano costruiti da artigiani locali e in altri casi per esempio vedete un grande tubo a scarica lungo così non era facile costruire un apparecchio del genere è costruito da Müller in Germania che era un esperto di tubi per le scariche nel vuoto però questo è fatto su misura per esempio su Righi oltretutto posso dire che oltre all'ingegnosità oltre agli strumenti inventati e agli strumenti notevolmente migliorati Righi con l'epoca di Righi l'Università di Bologna ha un museo di fisica cioè una collezione di apparecchi di fisica che certamente è una delle più importanti d'Italia mi ringrazio grazie grazie per questo per questo quadro molto molto sperimentale al dottor Brenni e abbiamo allora siamo un po' in ritardo però abbiamo ancora il tempo di fare un giro di precisazioni su una serie di altre cose perché più passano il tempo nella mattinata più mi rendo conto di quanto questa figura fosse estremamente eclettica perché si va dalla fisica sperimentale quella proprio con le mani nel laboratorio a appunto le visioni molto più generali e proprio delle visioni generali e vi chiedo a tutti quanti di contenere i vostri interventi però delle visioni generali mi piacerebbe parlare in questo momento perché c'è l'aspetto filosofico a cui si è già accennato in precedenza da parte del professor Bertozzi l'aspetto filosofico che coinvolge due parti uno c'è la parte per cui c'è la lunga citazione di Lenin del lavoro di Augusto Righi ma non solo Lenin dopo Lenin poco tempo dopo ci sarà nella commemorazione di Augusto Righi da parte di Benedetto Croce una citazione 24 giugno 1920 in cui Benedetto Croce dice come è puro scienziato non si limitò a concetti particolari della scienza ma tentò una generale teoria cosmica la teoria della costituzione elettrica della materia con la quale la fisica stende la mano alla filosofia allora da una parte è nell'interesse del materialismo dialettico quello di costruire la teoria del tutto nel senso che attraverso quella Lenin cerca di come dire di giustificare attraverso la scienza o comunque una scienza ideologizzata cerca di giustificare quelle che sono le sue visioni filosofiche e di filosofia politica e di questo io vorrei chiedere un piccolo cenno di nuovo al professor Balzani poi dopo vediamo invece gli aspetti delle teorie fisiche con il professor Maiani professor Balzani prego si bisogna sgombrare il campo da una possibilità di equivoco naturalmente a Lenin non interessava nulla della scienza e tanto meno delle teorie scientifiche in quanto tali il suo vero obiettivo in quel 1908 1909 era prendere la guida del movimento bolshevico cioè di questa frazione del partito socialdemocratico russo cercare di emarginare tutti quelli che lui chiamava i deviazionisti cioè altre forme di posizione anche filosofica presente all'interno di un gruppo che teniamo conto era tutto in esilio perché dopo la rivoluzione del 1905 i leader del movimento bolshevico che la rivoluzione era fallita erano tutti naturalmente in giro per l'Europa e anche per gli Stati Uniti d'America ecco prendere la guida di questo movimento molto frazionato imponendo quello che dopo si sarebbe chiamato un centralismo e il centralismo secondo questo piccolo movimento di intellettuali doveva essere naturalmente solidificato da teorie filosofiche questa era la loro idea quindi di conseguenza questa battaglia che viene combattuta attraverso questo libro che viene definito dagli studiosi del socialismo uno dei più brutti di Lenin perché in effetti non è il libro di una persona che mette insieme a fastella delle idee sulle teorie scientifiche ma naturalmente non le ha digerite a lui di Righi interessa soprattutto una frase che è quella che lo colpisce e si può dire cioè che la teoria degli elettroni sia una teoria della materia più che una teoria dell'elettricità quello è il fulcro su cui mette la sua accento proprio per contestare invece tutte quelle teorie che anche in ambito filosofico in ambito marxista seducevano in quel momento una componente anche della intellettualità russa in esilio e cioè quelle che attraverso Mach per esempio a Venarius passavano attraverso una riflessione sul senso dell'esperienza e sulla realtà della percezione che avevano poi delle radici kantiane esperimentali quindi da questo punto di vista si tratta di un regolamento di conti all'interno della estrema sinistra russa che viene compiuto in un percorso che va da Capri dove era Gorky e un altro gruppo di intellettuali passa da Londra dove Lenin va a studiare materialmente le cose perché non ha i documenti su cui trovarli e arriva a Parigi che è il luogo in cui litigano sostanzialmente il percorso finale di questo sarà il fatto che con una estrema velocità molto prima della rivoluzione russa naturalmente molto prima del 17 Lenin riesca a recuperare il bandolo della sua componente bolshevica rendendola quella pattuglia compatta dal punto di vista ideologico che poi sarà così importante non tanto nell'innesco quanto nella prosecuzione della rivoluzione di febbraio mi fermo qui grazie grazie davvero professor balzani perché ha fatto un quadro estremamente interessante di come l'uso strumentale della scienza da parte della politica possa essere come dire in qualche modo possa deformare il pensiero il pensiero filosofico della scienza a me viene per esempio in mente il darwinismo sociale come altro esempio in questo quadro però ecco in realtà il pensiero filosofico della scienza in augusto righi c'è e abbiamo già visto appunto nella citazione di croce questo aspetto della teoria della costituzione elettrica della materia che in qualche modo è un accenno di teoria del tutto cioè quando si comincia a pensare di fare una grande sintesi di tutti i fenomeni fisici Luciano Maiani c'è ancora? Sì sì sono qui che cos'era questa teoria della costituzione elettrica della materia e poi vabbè poi attraverso insomma passiamo passando di lì che cosa sono le teorie del tutto? Va bene è un argomento molto difficile argomento che in cinque minuti si svolge facilmente Luciano molto facilmente il tutto in cinque minuti allora se posso ritornare sulle mie sulle mie slides che non vedo se me le rimettete su posso arrivano arrivano diciamo ecco va bene non capisco perché non posso non riesco a manovrarle però no niente vorrei ritornare indietro scusate ci deve essere quella torna indietro ecco però io non la vedo questo è il fatto aspettate adesso vorrei ecco adesso ho un piccolo problema voi la vedete bene? vabbè allora io mi posso adattare sulla mia sulla mia copia allora diciamo volevo ripartire ehm andando avanti in questa in questa cosa se possiamo ripartire dalla slide numero 4 anzi 5 ecco vediamo un po' 50 anni dopo ecco adesso ci siamo va bene allora siamo rimasti circa intorno al 1910 ehm quando quando eh Righi scrive eh sia la prolusione la l'introduzione all'inaugurazione dell'istituto sia quando eh scrive a proposito di J.J. Thompson cosa è successo negli altri 50 anni allora qui vedete nuovamente lo schema che vi ho fatto vedere prima in cui si vede la discesa dal dal cristallo all'atomo e l'atomo di Rutherford l'atomo che mh è fatto di elettroni che orbitano intorno a un nucleo ecco negli anni 30 si fa un passo successivo molto importante si scopre il neutrone e si capisce che questi nuclei non sono altro che degli oggetti aggregati di protoni e neutroni questa volta fanno la loro apparizione un altro tipo di forze che non sono le forze elettriche di cui parlava Thompson e anche Righi cioè le forze che tengono gli elettroni intorno al nucleo ma sono delle forze che tengono protoni e neutroni nel nucleo e che sono molto più intense tanto che vengono chiamate le interazioni forti senza altra ulteriore specifica va bene in realtà negli anni 30 Fermi scopre anche un'altra cosa cioè che la radioattività di cui ho parlato prima ma veramente la radioattività che si chiama radioattività beta cioè quella in cui vengono emessi degli elettroni altro non è che il decadimento di un neutrone in protone elettrone neutrino e qui nasce la teoria di Fermi che è una delle costruzioni teoriche più importanti di questo altro grande scienziato che entra in campo appunto negli anni 20 in grosso modo cosa succede dopo dopo succede che si scoprono moltissime altre particelle che vengono prodotte nelle interazioni ad alta energia dei raggi cosmici e poi ancora degli acceleratori di particelle altre particelle che formano quello che è stato chiamato lo zoo delle particelle una grande quantità che sono caratterizzate variamente da numeri quantici con nomi un po' fantasiosi come la stranezza eccetera l'ordine in questo panorama viene messo intorno al nel 1963 da Gelman da Moray Gelman e da George Zweig che scoprono che è possibile caratterizzare tutte queste particelle come stati legati di costituenti ancora più piccoli che stanno dentro il protone e il neutrone e che sono di tre tipi che vengono chiamati su, giù e strano tre quark infatti Gelman prende il nome di questi costituenti da una frase molto oscura della fine Gansway in cui qualcuno dice tre quarks for master mark non si capisce qui i quarks cosa sono potrebbero essere pinte di birra eccetera ma sono tre come i quark che servono per descrivere le particelle elementari ce ne sono alcuni che stanno dentro il protone e il neutrone e altri che invece stanno dentro le particelle che si chiamano le particelle strane e questo è il quark di tipo S questa trasparenza vi descrive diciamo il passo successivo come sono visti i costituenti della materia e delle forze fondamentali in una cosa che si è materializzata intorno agli anni settanta diciamo tra 70 73 74 eccetera e che si chiama il modello standard con una con una con una con una con una con una un po' diciamo riduttiva per dire che questo modello di queste particelle con le forze che adesso vi illustrerò spiega tutto il comportamento della materia e della radiazione che oggi conosciamo e devo dirlo francamente non esistono esperimenti che siano in contraddizione con questo modello allora riparto da da Gelman la materia ordinaria è composta dai quark u e d che sono quelli che stanno dentro il protone e il neutrone poi c'è l'elettrone e il neutrino che appare nella disintegrazione previste da Fermi però Gelman deve introdurre un altro quark che sta spaiato rispetto a questa colonna che si chiama il quark strano e qui c'è un contributo fondamentale di Nicola Cabibbo che spiega come in realtà nel decadimento di Fermi nelle interazioni di Fermi non compaia il quark di da solo ma compare in una come si dice sovrapposizione di D ed S e questo spiega allo stesso tempo i decadimenti dell'elettrone e i decadimenti delle particelle strane tuttavia il quark strano così da solo crea molti problemi e infatti qui diciamo in un lavoro che abbiamo fatto con Sheldon Grashan e Johnny Diopoulos viene fuori il fatto che in realtà il quark strano fa parte di un complesso che si chiama la seconda generazione cioè il quark strano insieme al quark con charm che è stato ipotizzato in questo lavoro al neutrino mu e al muone che erano già conosciuti forma una seconda famiglia di particelle elementari che è assolutamente necessaria per descrivere le forze deboli e qualche anno dopo due fisici giapponesi come Yashi e Maschawa mostrano che per descrivere un altro fenomeno che non si riusciva ad acchiappare prima e cioè la cosiddetta simmetria materia antimateria bisogna introdurre una terza generazione e nel 1976 viene scoperto per la prima volta il quark B e anche il quark C quindi diciamo gli esperimenti mostrano che queste costruzioni teoriche sono fondate nella realtà quali sono le forze che agiscono tra queste particelle cioè le particelle il quark e quelli che si chiamano i leptoni cioè queste particelle che sono la famiglia dell'elettrone sono delle forze mediate e se stesse da altre particelle una di queste è il fotone cioè quello che media le interazioni elettromagnetiche questo è Maxwell diciamo sono le forze il fotone trasmette le forze di cui parlava Lorenz quando parlava della teoria dell'elettrone che sono quelle che tengono in piedi l'atomo però adesso le interazioni di Fermi sono diventate delle forze mediate da tre particelle simili al fotone che si chiamano i bosoni intermedi sono una particella carica W più e W meno quindi due particelle cariche e una particella neutra che è lo z questo è stato introdotto queste particelle addizionali sono state diciamo caratterizzate nella teoria prima da Sheldon Glashow nel 1961 e poi da Weinberg e Salam nel 1967 e questa costituisce quella che si chiama la teoria unificata delle interazioni deboli ed elettromagnetiche Maxwell aveva messo insieme in un unico schema teorico l'elettricità e il magnetismo e Glashow e W e in Salam mettono insieme l'elettricità e il magnetismo e le interazioni deboli in un unico schema una teoria unificata che si chiama elettrodebole e la prima osservazione delle particelle Z e W è dovuta a Carlo Rubia che vedete qui immortalata in una bella foto che diciamo con il suo esperimento UA1 e poi anche dei fisici di UA2 ha osservato per la prima volta al CERN queste particelle lo Z e il W però i quark hanno bisogno di una forza intensa per tenerli insieme nel protone e nel neutrone così come protone e neutrone hanno bisogno di una forza specifica che li tenga insieme nei nuclei così ci deve essere una forza che confina i quark all'interno del protone e del neutrone e questo è il passo ancora successivo le interazioni forti tra i quark sono anch'esse mediate da particelle dello stesso tipo del fotone che appare come il prototipo della forza che si chiamano gluoni e sono sintoticamente libere permettetemi di sorvolare su questo aspetto che peraltro è estremamente importante perché ci dà il modo di controllare sperimentalmente la validità di questa teoria e questa è dovuta a Politzer Gross e Wilczek queste Wilczek queste Gross e queste Politzer che diciamo nel 73 hanno proposto questa teoria e quindi vedete che adesso noi abbiamo un quadro di quelli che sono i costituenti della materia i quark e i leptoni quark delle tre generazioni di quelle che sono le forze le forze deboli le forze elettromagnetiche e le interazioni forti del gluone ma ci manca ancora un elemento che è scritto qui il bosone di X il bosone di X ha un effetto importantissimo perché diciamo attraverso un fenomeno che non ho tempo di descrivere produce le masse di queste particelle ed è associato ad una particella che si chiama il bosone di X che per lungo tempo è rimasta l'ultima cosa da trovare in questo schema e nel 2012 come sicuramente sapete è stato ops scusate no aiuto come faccio a tornare indietro va bene ecco no indietro indietro ecco bravo nel 2012 è stato scoperto al CERN questo bosone di X e questa foto qui riporta Peter X che sta sulla destra e Robert Engler che stanno sulla sinistra che sono due il terzo è Braut che purtroppo è scomparso diversi anni fa che sono quelli che hanno previsto che le particelle elementari le masse dei costituenti elementari fossero prodotte dal bosone di X il nome di X è rimasto attaccato a questa cosa perché in un lavoro di Weinberg che non conosceva il lavoro di Engler e Braut l'aveva chiamato il bosone di X e così è rimasto colloquialmente questa è diciamo quella che oggi rimpiazza la teoria dell'elettrone di Thompson ci sono scritti i componenti ci sono scritte le forze a questo punto mettete insieme la teoria calcolate 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 e potete prevedere tutto questo è quello che succede oggi sembrerebbe la fine della storia non vorrei parlare di filosofia perché diciamo la scienza è fatta così cioè fa delle ipotesi e poi le verifica e poi prova sperimentalmente se queste ipotesi sono giusto o sbagliate e quindi questo è però abbiamo diversi elementi che ci fanno pensare che questa non sia la fine della storia e l'elemento più importante è che se io voglio fare veramente una teoria unificata di tutte le forze ci dovrei mettere anche la forza gravitazionale che come vedete non c'è in questo schema questo schema bisogna raggiungere da una parte però c'è anche il gravitone le onde gravitazionali che sono state scoperte sono state osservate recentemente qualche anno fa quindi questo è uno e l'altra cosa è che in una teoria unificata non si capisce come tutte queste proprietà specifiche dei quark che sono diversi una dall'altra dei masse che sono differenti certi accoppiamenti eccetera da dove vengono fuori in un certo senso ritorna un problema che era il problema della teoria di Maxwell la teoria di Maxwell andava benissimo nel vuoto ma quando si doveva studiare la propagazione delle onde nella materia bisognava introdurre l'indice di rifrazione la permeabilità magnetica tutte cose che moltiplicavano le tabelle che bisogna scrivere nei trattati di fisica e diciamo quindi ci sono diversi problemi che ci fanno pensare che ci siano delle altre particelle ad energie più elevate che possano fare da ponte tra questi vari fenomeni e e e quindi diciamo portarci più vicino alla teoria del tutto e adesso Luciano ti devo chiedere di sintetizzare perché abbiamo altri due interventi in attesa sono alla fine le sfide del futuro trovare il bosone di Higgs abbiamo trovato come ho detto occorre trovare qualche simmetria che unisca maggiormente queste cose e questa dovrebbe essere una possibilità è la le le parcellerie supersimmetriche e poi c'è un aspetto che è venuto fuori negli ultimi 50 anni che nell'universo c'è una materia che non irraggia e che è la dominante materia dell'universo e di cui non conosciamo la natura per questo si sta pensando a fare delle macchine che vadano oltre le energie raggiungibili con l'HC qui sono due disegni che sono due proposte che vengono studiate in questi tempi una al CERN e l'HC è questo anellino qui piccolo vicino al lago di Le Mano e si pensa ad un anello di 100 km un tunnel di 100 km in cui mettere una macchina che alla fine raggiunga le energie superiori a cui vogliamo andare e negli ultimi anni è entrata l'Asia in questo gioco prima il Giappone e poi adesso la Cina che diciamo sta studiando la possibilità di fare una macchina appunto in Cina questa è una possibilità in questo sito che tra l'altro è il posto dove arriva al mare la grande muraglia che è molto divertente insomma da qui parte la grande muraglia cinese un collisore a protoni che sia dieci volte più potente di LHC è una sfida formidabile che sia in un tunnel di 100 km insomma è una cosa che richiede tecnologie innovative di tutti i generi e che però noi pensiamo sia un polo d'attrazione per i giovani talenti nuove idee eccetera come si fa una cosa di questo genere e beh qui c'è la mia ultima frase negli anni 50 abbiamo visto i laboratori europei unirsi per creare il CERN una possibilità per fare questo è che diciamo si crei una rete globale di acceleratori che alla fine contribuisca a costruire un acceleratore di questo genere in qualche parte del mondo in questo momento in cui siamo in preda la pandemia in cui si stanno riaccendendo le 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 tensioni regionalistiche estreme tra Oriente e Occidente sembra un po' fantassascienza parlare di questo però non ricordiamo non dimentichiamoci che il CERN è stato fondato negli anni 50 da nazioni che fino a 5 anni prima si ferocemente combattevano tra di loro quindi non abbiamo perso le speranze e forse potremmo realizzare questo sogno grazie grazie Luciano Maiani anche per questa visione della scienza come straordinaria impresa collettiva io per finire con gli ultimi due interventi toccherei un tema che è molto all'ordine del giorno della scienza che è quello degli spin off e cosiddetto technology transfer ormai usiamo solo terminologie inglesi fino al trasferimento tecnologico dalla scoperta scientifica all'applicazione pratica ecco intanto inquadrerei una situazione una questione che non è stata toccata in qualche modo ha leggiato appunto la cosiddetta polemica Marconi-Righi polemica che né Marconi né Righi avrebbero fatto e se ne sarebbero guardati volentieri ma che in qualche modo fu introdotta da altri e comunque appunto gli aspetti come dire che hanno visto un contrasto per lo meno per esempio ne parlavamo prima Righi è stato definito nel 1903 da Nature il padre della telegrafia senza filo tuttavia nella sua opera la telegrafia senza filo usa l'espressione sistema Marconi per riferirsi al lavoro e sviluppo tecnologico realizzato da Marconi stesso professoressa Robotti ci parli di queste due figure delle somiglianze e soprattutto delle differenze tra le figure di Righi e di Marconi grazie avrei bisogno delle slide ecco questi sono i nostri due bolognesi celebri appunto molto sedetto sulla presunta influenza di Righi sull'invenzione da parte di Marconi nel 1896 della telegrafia senza fili adesso cerco di ricostruire in che modo Righi ha avuto un peso su Marconi quali sono stati i loro rapporti allora innanzitutto come è stato detto prima da vari interventi a partire dal 1892 Righi si interessò agli esperimenti compiuti da Hertz tra il 1885 e il 1889 con i quali grazie al suo oscillatore che è mostrato in figura riuscì a produrre e a rivelare in laboratorio le onde elettromagnetiche previste dalla teoria di Maxwell e a dimostrare che analogamente alla luce esse venivano riflesse e rifratte l'obiettivo di Righi di fronte a questo problema era quello di dimostrare sperimentalmente che l'analogia fra le vibrazioni elettriche e le vibrazioni luminose non riguardava solo queste due proprietà dimostrate da Hertz ma era intima e completa Righi capì subito che le onde prodotte dall'oscillatore di Hertz che erano circa 66 centimetri non erano adatte allo scopo perché avrebbero richiesto apparecchi di così grandi dimensioni da non essere praticamente realizzabili e così per prima cosa si impegnò a costruire degli oscillatori che producessero onde di piccola lunghezza d'onda e dei risonatori che ricevessero queste onde con una sensibilità la più grande possibile questa fu veramente l'idea vincente di Righi che gli consentì di raggiungere il suo obiettivo infatti giuse alla realizzazione del suo famoso oscillatore a sfere o oscillatore a tre scintille che è stato presentato all'Accademia dei Lincei il 30 aprile del 93 ecco questo è lo schema del suo oscillatore così come presentato all'Accademia e con sfere appunto ci sono quattro sfere non entro nei dettagli semmai poi lo vedremo qua al museo con sfere di 8 cm di diametro Righi fu in grado di produrre onde di lunghezza d'onda di 25 cm addirittura con un oscillatore piccolo la lunghezza d'onda scendeva a 26 mm col suo oscillatore e con un risonatore di cui appunto ha parlato prima Paolo altrettanto ingegnoso Righi riuscì a studiare le proprietà ottiche delle onde elettriche con apparecchi di dimensioni non molto più grandi di quelle che si usavano nello studio dell'ottica dimostrando così in modo sistematico e pressoché completo che le onde elettriche avevano le stesse proprietà delle onde luminose questa è una bellissima immagine di Righi che appunto fa questi esperimenti tutte queste esperienze come è stato già detto furono riassunte da Righi nel volume significativamente intitolato l'ottica delle oscillazioni elettriche pubblicato appunto nel 97 velocissime il successo di questo volume che fu tradotto in varie lingue fu immenso e portò a riconoscere Righi come un vero e prioniere della teoria elettromagnetica della luce dopo Maxwell ed Hertz oddio non succede più niente ah è successo nel periodo in cui Righi era impegnato a trafficare con queste onde elettriche Marconi allora poco più che ventenne ebbe contatti diretti con Righi in particolare come riportato ad esempio da due testimoni oculari un assistente di Righi che era appunto De Sau e il figlio di Righi Aldo Marconi pur non essendo iscritto all'università frequentò il laboratorio di Righi ed assistete alle esperienze da lui svolte oltre che alle sue lezioni è naturale quindi supporre che di fronte agli spettacolari esperimenti eseguiti da Righi in cui le onde elettromagnetiche venivano fatte viaggiare nello spazio anche da un capo all'altro del laboratorio e addirittura fino a 25 metri Marconi si è rimasto molto impressionato tanto al punto di abbracciare la fantastica idea di riuscire a trasmettere con queste onde un segnale morse su lunghe distanze e questo era il pensiero e questo era anche il pensiero di Righi come è stato annunciato dalla mia presidente della SIF che in un appunto non datato Righi scriveva sta di fatto che l'idea della telegrafia senza filo gli venne dopo che gli mostrai e gli feci comprendere le mie esperienze sulle onde elettriche e secondo me non c'è niente di di stravagare riguardo a questi suoi anni iniziali Marconi scriverà sulle pagine di Natural del 20 dopo la morte di Righi senza sbilanciarsi troppo sebbene contrariamente a quanto viene spesso ritenuto io non abbia mai avuto il privilegio di essere un allievo del professor Righi ho sempre avuto come ben noto una profonda ammirazione per lui e per la sua opera grande e di vasta portata nel campo della fisica e in particolare in quello delle onde elettriche il professor Righi che conoscevo bene personalmente era uomo dal carattere singolarmente modesto e con la sua morte non solo l'Italia ha perso uno dei suoi principali uomini di scienza ma anche il mondo intero perde un lavoratore brillante originale nel campo dell'elettrotecnica questo scritto su Nature il nome di Righi venne citato da Marconi anche nella sua Nobel Lecture del 1909 dopo aver affermato di non aver mai studiato fisica o elettrotecnica in modo regolare e di aver seguito soltanto un corso di fisica non tenuto da Righi ma tenuto dal professor Rosa a Livorno così ricordava in modo distaccato credo di poter dire che ero piuttosto bene informato sulle pubblicazioni dell'epoca riguardanti argomenti scientifici quali i lavori di Hertz di Branly e di Righi dopo aver raccontato le sue prime esperienze fatte nel 95 con un semplice oscillatore di Hertz nella Nobel Lecture proseguiva sottolineando che aveva ottenuto ulteriori miglioramenti facendo uso di riflettori abbinati sia a trasmettitore sia a ricevitore il trasmettitore cioè l'oscillatore essendo in questo caso un oscillatore di Righi e in realtà l'oscillatore che compare nel primo brevetto presentato da Marconi il 2 giugno del 96 e poi esteso nel 97 c'è proprio l'oscillatore a 3 centille di Righi il nome di Righi però non viene fatto si parla genericamente di un oscillatore erziano comunque dal momento che il brevetto si riferisce alla trasmissione di onde elettriche ad alta frequenza si capisce che è l'oscillatore di Righi e che non poteva essere quello di Hertz insomma attraverso Marconi l'oscillatore a 3 centille di Righi si trova dentro a un brevetto ma non a nome di Righi questo è il brevetto che è bellissimo di Marconi e vedete qui nella figura 3 e nella figura 6 l'oscillatore di Marconi che è identico all'oscillatore di Righi questo c'ha qualcosa c'ha ecco in realtà no mi dispiace ma non succede niente vado indietro ah sì ecco ad esempio questa è una fotografia famosa di Marconi il quale è ripreso avendo vicino l'oscillatore che è chiaramente identico all'oscillatore di Righi riportato lì nonostante questi mancati riconoscimenti da parte di Marconi Righi non mostrò mai alcun rancore nei suoi confronti il giudizio di Righi su Marconi fu infatti sempre positivo nel 3 Righi pubblicò sempre assieme a De Sau il volume La telegrafia senza fili che ebbe anche una recensione molto positiva su Nature in questo libro dopo che fu evidenziata l'identità perfetta tra l'oscillatore a tre scintille inventato da Righi e l'oscillatore descritto da Marconi nel suo primo brevetto e dopo che furono ricordati altri predecessori di Marconi i quali l'inventore Calzecchi Onesti per l'apparecchio ricevitore e il fisico russo Popov per l'aggiunta a questo dall'antenna e anche il fatto che l'idea di trasmettere a distanza dei dispacci per mezzo di quegli apparecchi non era nuova ma aveva avuto dei precursori veniva riconosciuto dagli autori a Marconi un merito indiscutibile quello di aver preso un'audace iniziativa laddove da altri non erano state fatte che delle timide proposte e di avere trasportato nel campo pratico ciò che altri avevano soltanto intraveduto o realizzato in scala minore giungendo così a quel nuovo sistema di comunicazione che ha ragione può chiamarsi il sistema Marconi sui rapporti o quasi finito sui rapporti tra Righi e Marconi possiamo anche citare questa testimonianza riferita dal senatore Guglielmo Mengarini nel necrologio che fece il senato a me risulta che Righi valutò sempre al giusto punto la scoperta di Marconi ne parlamo insieme molte molte volte ed ancora me ne scriveva il 10 dicembre del 1918 in una lettera di cui ritengo interessante citare il brano seguente nel salutare e ringraziare da parte mia il Marconi gli dica che sarò liettissimo di incontrarlo a Roma anzi egli previene un mio desiderio in quanto che desidero consultarlo circa alcune aggiunte a varianti che intendo introdurre in una nuova edizione della telegrafia senza fili Righi come è stato detto fu proposto per il premio Nobel per la fisica initornatamente dal 1905 al 20 senza mai ottenere il premio Marconi quando nel 1910 per l'unica volta indicò una possibile vincitore per il premio Nobel non propose Righi ma nominò Henri Poincaré quando Righi morì gli furono come sia stato detto dedicate in senato otto commemorazioni tra queste manca quella di Marconi voglio concludere con questa frase dal necrologio di Benedetto Croce in senato la reputazione di Righi formatasi tra gli studiosi severi si era sparso anche in più larga cerchia così per il suo libro sulla moderna teoria dei fenomeni fisici come perché si sapeva che le sue indagini sulle ondulazioni elettriche e il suo oscillatore erano stati punto di partenza per la scoperta della telegrafia senza fili ma Enrico fu e voleva essere un puro scienziato grazie grazie alla professoressa Rabotti per il quadro che ci ha tratteggiato puro scienziato che però ha dato un contributo importante allo sviluppo della tecnologia e quindi in chiusura proprio sul contributo tecnologico di Augusto Righi io vorrei chiedere il suo breve pensiero al dottor Paolo Brenni grazie mi fa piacere poter seguire in questo ultimo corto intervento quanto detto dalla collega Nadia perché bisognerebbe fare un piccolo distingo siamo in Italia un fisico è un fisico non siamo nei paesi anglosassoni dove Kelvin a ogni piesso spinto si precipita a brevettare i suoi strumenti elettrici li fa costruire fa il previsore di maree fa la ditta per costruirlo eccetera bisogna pensare che Righi sì certo magari avrà avuto nel suo intimo una certa invidia per Marconi alla fine quando ha visto che Marconi era diventato l'eroe del momento diciamo di quei decenni però Righi come ha giustamente detto Nadia Righi interessava vedere questa corrispondenza delle onde elettromagnetiche con la luce il resto non gli interessava pensate a un caso molto simile Galileo Ferraris e Tesla in America Galileo Ferraris e Tesla contemporaneamente per vie diverse arrivano alla scoperta del campo magnetico rotante ma per Galileo Ferraris molto più simile a Righi come formazione e come ambiente di lavoro lui è soddisfatto perché dimostra matematicamente riprendendo delle analogie con la luce polarizzata circolarmente eccetera che un campo magnetico rotante può essere composto da due campi alternativi sfasati è contento basta non gli interessa non è come Tesla che vede già le applicazioni corre da Westinghouse e poi alla fine saltano fuori le centrali elettriche del Niagara col sistema Tesla Westinghouse cioè dobbiamo pensare questo Righi certo ha cercato anche lui di fare qualche cosa nella tecnologia pensiamo al caso del telefono che è stato l'unico brevetto purtroppo però col telefono nonostante il successo delle dimostrazioni si è un posto scottato perché il telefono di Righi è restato in qualche istituto di fisica ma non è mai stato adottato ha avuto successo Bell perché? perché Bell ha saputo creare un sistema come Marconi ha saputo creare un sistema il grande il grande oserei dire merito di Marconi è non tanto di aver inventato delle cose perché quasi tutti gli elementi del suo sistema come l'oscillatore di Righi vanno ad altri in merito di queste menzioni Righi riesce a sintetizzare una cosa e oltre a questo non si ferma all'apparecchio dimostrativo che va su 25 30 o 100 metri con la sua testa dura se volete con la sua fissazione delle distanze e di aumentare le onde eccetera costruisce degli apparecchi industriali perché se voi vedete le fotografie e i brevetti di Marconi utilizzati in Cornovaglia e a Terranova sono delle centrali elettriche per intenderci non è più l'apparecchietto che voi vedete qui sono due cose diverse e questo volevo dire d'altra parte faccio un piccolissimo accento Marconi ha successo anche perché arriva in Inghilterra giovane di belle speranze e gli presenta subito il direttore del post office probabilmente non avendo tutte le entrature della famiglia Jameson da parte di sua madre avrebbe rischiato di essere un pacinotti che poveretto non è mai riuscito a sviluppare industrialmente la sua dinamo ma l'ha lasciata ha dovuto vedere la parte industriale soffiata da Graham in Belgio perciò voglio dire bisogna pensare a questo non è che automaticamente io ho un'invenzione e zack domani mattina c'è l'applicazione bisogna vedere qual è il terreno in cui può crescere o non può crescere i bisogni e bisogna vedere anche proprio che tipo di attitudine Righi era un fisico non era un inventore che voleva applicare le sue cose l'episodio del telefono interessante è stato in fondo un episodio e se è restato lì poi Righi voleva dimostrare delle cose come è stato ben fatto vedere anche dai miei colleghi questo mi sembra un punto importante da ricordare quando si parla di fisici tecnologi inventori e industriali in Italia perché come dico e ripeto la situazione in Italia per esempio è estremamente diversa dalla situazione nei paesi anglosassoni e in certi casi anche nei paesi in Germania per esempio e con questo finisco grazie 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 al dottor Brenni mi ha fatto venire in mente che anche per il telefono il brevetto fu garantito dal fatto che che bella aveva un suocero che era un ricco avvocato per cui aveva un vantaggio competitivo sul povero Meucci io ringrazio tutti quanti per i vostri interventi e per averci illustrato la figura di Augusto Righi come meglio non si sarebbe potuto per cui grazie a Nadia Robotti Roberto Balzani Paolo Brenni e a distanza grazie a Luciano Maiani e lascio la parola a questo punto a Nicola Semprini che ha ancora qualcosa da dirci credo no ho sbagliato io Laura Fabri buongiorno allora vi ringraziamo tutti di essere stati qui con noi presenti oggi la giornata di celebrazione la giornata inaugurale delle celebrazioni si conclude grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti